Ciao a tutti ragazzi, sono SilverDX In questo nuovo video sono su una nuova mappa Creata da uno Che ho trovato online, non mi ricordo il mio nome Allora, si chiama La mappa del Nether Nether, per giunto è scritto con la D No, con la TH Allora, mo non so dove cazzo andare Sopra Che cazzo è qua? Aiaiaia, lag Mi ripositiamo tutto Ok, ora dove dovrei andare? Nether, deciditi Che cazzo è? Che cazzo è? Scaricamento del terreno Oddio, lag estremo Ok Segui il percorso infernale Agagagagagagagagag Oddio, come lagamo Aspettate Ok Craft un letto e dormi Ok Oddio Cazzo Cazzo è successo Cazzo è successo Oddio, cazzo è successo Cazzo è successo Voglio capire cosa è successo No, vuoi vedere che è stato il letto Che palle No, il letto Mi ha fottuto Mi ha fottuto Che poi E mo? Come cazzo devo tornare indietro? No Continuiamo qua Continuiamo qua Seguiamo il percorso infernale Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Che voi volendo Io posso pure spegnere le fiamme Aia E finito Ecco Ai Che cazzo era qua Oddio la lava Ma che cazzo è Perché devo seguire il percorso infernale Che cazzo dico sto map di merda Ok Aiaia Ok Che cazzo è qua Oh Vai Aspetta che cazzo è Ti serviranno Cosa Che cazzo me ne faccio del vetro Oddio Che schifo è Dai Spade in diamante Si ma ora che devo fare Lo torno indietro Aiaiaiaia Sto bruciando come un cretina Un cretina Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Che cazzo di custom map Oddio ma perchè Che custom map più stupide Ok Ok, piano Piano Oh, beh, ora come dovrei tornare? No, voglio capirlo Oddio Come dovrei tornare? Cioè, non è che significa mo' che la devo rifare da capo? Cioè, che cazzo? Ma cazzo devo andare mo' Oddio, la lava sta qua Spaniamo Spaniamo un po' Ai, 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 ai Aiuto, aiuto, aiuto Oh, una cassa, una cassa Aiuto, aiuto Aia, aia Come cazzo devo fare mo'? Devo saltare la lava? Come cazzo devo fare? Nah La lava, saltare la lava Ma che scherzi Andiamo Ecco No, vabbè Quello è tutto previsto Quello è tutto là previsto Previsto che io avrei fatto esplodere il letto Poi è che parte la musichetta Ok Andiamo Andiamo Che bello Cazzo si vamo? Che cazzo è? Devo andare in questo portale Ma non lo so Ma se faccio lo stesso Casino che ho fatto prima Oh, che cazzo è là? No, non ho capito Non lo so, io ho paura a buttarmi giù Ma sia poi Non riesco a salire Qua che cazzo è? È una struttura inossigliana Ma sia una mobbarina Oddio Oddio Fatemi uscire Fatemi uscire No, 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 no Cazzo è Prendi Premi sulla pedana Per finire la map custom La map custom Oddio Che cazzo devo fare mo? Oddio Che cazzo era? Aspetta Forse devo mettere In fasce Oddio 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 Oddio